Non sono per niente preoccupato, è il commento di Silvio Berlusconi all'indomani dell'annuncio del processo a Milano. Il primo ministro è convocato per un giudizio immediato il 6 aprile per concussione e prostituzione minorile. In una conferenza stampa a Palazzo Chigi, Berlusconi ha detto che lui e la Lega sono determinati a concludere la legislatura. Per il partito di Bossi la priorità è portare a casa il federalismo. L'accanimento giudiziario nei confronti del presidente Berlusconi è evidente a tutti. Se qualche magistrato però pensa in questo modo di indebolire anche l'azione del governo si sbaglia di grosso. Berlusconi potrebbe scegliere il giudizio abbreviato e il patteggiamento oppure farsi sottoporre al normale dibattimento per la vicenda rubi. La ragazza marocchina sarebbe stata d'arcore 15 notti in 77 giorni e avrebbe detto al premier di essere minorenne quando lui le ha offerto un appartamento nella dimora olgettina. Io lo giudico come un uomo politico che ha dato un grosso contributo e deve continuare a darlo per il bene dell'Italia. Ma si parla solo di questo? Ecco, basta, non è che si parla di politica, si parla solo di lui, basta. Il caso Rubi che ha alimentato diverse parodie ha suscitato commenti sulla stampa estera tra cui il timore che la vicenda possa danneggiare anche l'immagine dell'Europa nel mondo.